L'occasione è per porgere i migliori e cari auguri a tutte le famiglie tarantine e dell'intera provincia di Buon Natale e Sereno 2024. Un caro augurio per queste festività a tutti i cittadini della provincia ionica, un pensiero a tutti quei cittadini che stanno affrontando queste feste con difficoltà economiche, un pensiero a tutte quelle persone che vivono ai margini e un invito dove fosse necessario a tutti gli operatori sanitari di accogliere con il sorriso e con il cuore tutti i cittadini che si avvicinano ai nostri servizi perché vivono un momento di fragilità e un momento di sofferenza. Quindi è questo l'augurio e l'appello che faccio a tutti. E' con grande gioia che a nome di tutte le donne e gli uomini della Marina Militare del territorio Tarantino formula alla cittadinanza i migliori auguri per le prossime festività e un fervido 2024. Cari amiche e cari amici di cronechetarantine.it voglio rivolgere a voi e le vostre famiglie il mio augurio personale e a nome della CTP SPA che mi onoro di presiedere. Il mio augurio è che la locuzione, la parola mobilità sostenibile che ascoltiamo tante volte si concretizzi nell'imminente futuro. La mobilità sostenibile è l'uso alternativo all'auto privata per raggiungere il posto di lavoro, la propria abitazione e quindi incentivare l'uso del mezzo pubblico. Nel caso particolare nel nostro caso i mezzi del CTP che sono mezzi sicuri, confortevoli e sostenibili appunto che rispettano l'ambiente. Come i 20 nuovi mezzi messi in circolazione poco tempo fa che sono ibridi e i 67 nuovi pullman che verranno messi in circolazione ad aprile 2024. Un augurio a voi e alle vostre famiglie di tanta serenità per le imminenti feste natalizie e un 2024 prospero e sostenibile.